Il coordinamento comunale di Alleanza per l'Italia ritiene indispensabile per quanto riguarda la sanità aquilana una programmazione complessa dove il futuro della nostra gente sia correlato ad un cambiamento radicale della cultura sanitaria. Per raggiungere un obiettivo tanto ambizioso, dice Vittorio Sconci, coordinatore comunale dell'API, ci sembra indispensabile quindi perseguire i seguenti elementi programmatici per l'asle provinciale di cui l'Aquila è parte integrante. In primo luogo Sconci propone come a medio termine entro tre anni ci sia l'aziendalizzazione e a lungo termine entro cinque anni la clinicizzazione dell'ospedale civile San Salvatore. Riteniamo, dice Sconci, essere questo l'unico modo per far sì che la presenza nel nostro comprensorio della Facoltà di Medicina produca un salto di qualità tale da portare ad alte specializzazioni ed eccellenze su cui un'azienda ospedaliera clinicizzata debba contare sia per i suoi fini istituzionali che per quelli squisitamente economici. Sconci poi propone altri punti, il potenziamento a medio termine degli ospedali civili di Avezzano, Sulmona e Casteldisangro, attraverso unità operative di alta qualità con la mission di creare dipartimenti misti ospedali territorio per privilegiare i diritti del cittadino attraverso l'elemento cardine di una nuova e moderna strategia della salute, la continuità terapeutica. In terzo luogo, Sconci propone la riconversione degli ospedali minori, individuando nell'assistenza agli anziani, nell'intervento in postacuzie, nel trattamento della cronicità, nella semiresidenzialità e nei presidi di pronto intervento territoriali, la vera nuova frontiera del diritto alla vita delle attuali e future generazioni.